Valorizzare i prodotti a denominazione ne abbiamo 176 di DOP o IGP, quindi che so il grano padano piuttosto che il parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala di OP, il pomodoro san marzano e così via. C'è anche la carne suina in questi piatti? C'è sempre la carne suina, diciamo che noi mangiamo carne suina, la carne suina non fa male, anzi è molto sicura e anche pochi grassi.